Confidenze tra carabinieri, uno gli fa, oh, mia moglie è proprio deficiente, pensa, è andata al supermercato, ha comprato 30 kg di carne, diciamo manca il frigo, quell'altro gli fa, sì, a me è peggio, st'estate è andata in vacanza da sola, si ha portata 4 scatole di preservativi, diciamo manca il cazzo!